Andrea Traini è un nuovo giocatore dell'Ivpc del Fessavellino. La società erpina ha ufficializzato l'arrivo del playmaker marchigiano, reduce da un periodo di inattività successivo all'esperienza in A2 con Capodorlando, ma anche da due mesi di lavoro a Re Canati. Traini era stato protagonista in Serie B con Real Sebastiani Rieti, playmaker classe 1992, 180 cm x 75 kg. Il giocatore è già a disposizione di coach Giovanni Benedetto, play con spiccate skill offensive e un giocatore, abituato a creare del palleggio, abile in penetrazione e pericoloso del tiro dalla lunga distanza. Ha iniziato la stagione a punto da free agent, ora l'avventura in bianco-verde. L'arrivo di Traini costituisce insieme a Daniele Sandri la volontà chiara di non lasciare nulla di intentato. C'è un girone di ritorno da affrontare, la partita con Bisceglie per chiudere il girone d'andata e desiderare di migliorare, afferma il general manager dell'Ivpc Paolo Rotondi. Sono stati aggiunti due giocatori che erano il tasso tecnico della squadra e ci aspettiamo tutti che possano migliorare il livello degli altri portando esperienza e tranquillità ma soprattutto tanta serenità.